Volevo invitare qua una tua paziente, piccolina e i suoi genitori, se è possibile, perché io penso che avere una visione di un approccio clinico integrato e soprattutto, Graziano se vuoi venire, scusate un attimo, scusa Mauro, avere questa capacità di unire le forze penso che sia una grande cosa e allora volevo lasciare la parola a voi, a Graziano, a Giovanni. Ciao a tutti, noi siamo i genitori di Selene e Alessandro, Selene è qui con noi, Selene è una sindrome genetica rara, una sindrome di Rett, è una sindrome molto brutta perché colpisce il sistema nervoso centrale, causando disabilità a livello motorio, a livello cognitivo, vabbè, è molto brutta. I medici all'ospedale che ci segue ci hanno dato zero speranze, ci hanno detto che Selene non ha speranza perché non esiste una cura, che poteva solo peggiorare e quindi immaginatevi noi, siamo anche molto giovani, come vedete, c'è colato il mondo addosso. Poi abbiamo conosciuto il dottore Allegrini che ci ha fatto il test del bulbo e abbiamo iniziato a capire un po' come funzionava invece il sistema di Selene. Selene aveva un grande problema con l'inquinamento elettromagnetico e abbiamo iniziato ad intervenire su quello, la bambina migliorava. Poi abbiamo scoperto che ha ancora purtroppo attualmente dei gravi problemi intestinali ma stiamo lavorando anche su quelli e Selene che non doveva avere speranza ha iniziato a migliorare e i dottori non se lo spiegano, i dottori che ci seguono all'ospedale ve lo dico proprio chiaramente. La bambina è molto più presente a livello cognitivo, è tornata a sorridere perché Selene dovete pensare che ha avuto uno sviluppo normale fino al diciottesimo mese di vita, poi si è arrestata, è tornata indietro e ha perso tutte quelle competenze che le aveva acquisito fino a quel momento. Quindi avevamo perso il contatto visivo, non era più lei, guardava sempre il soffitto, non voleva giocare, abbiamo ancora tanta strada da fare. Però Selene è tornata a guardarci, a sorridere, inizia di nuovo a manifestare un po' di interesse verso il gioco, inizia ad interagire anche con noi a suo modo, ancora non parla perché generalmente dicono che queste bambine non parleranno mai, ma io ci credo poco. Quindi noi siamo veramente grati al dottore, a Giorgio Terziani che ci ha indicato il dottore e a tutti quelli che ci stanno aiutando perché di squadra, assolutamente sì. Ci proviamo. Il corpo è un sistema, oggi l'hanno detto praticamente tutti, noi non siamo dottori, però stiamo cercando di intervenire sotto più fronti. È quello che vediamo con i nostri occhi un miglioramento. Quindi grazie veramente a tutti e nulla. Grazie di cuore per l'attenzione. Grazie perché sicuramente sono le cose che ti dicono, ti danno speranza e la speranza all'umanità e poter contribuire anche se fosse una goccia nell'oceano, ci permette di fare la differenza. Quindi grazie a questi splendidi ragazzi, bravi complimenti per quello che fate. Grazie ancora.